cerchi un crossover comodo e agile perfetto per gli spostamenti incitati presento opel crossland x un modello nell'allestimento innovation con motore da 1200 di cilindrata 82 cavalli con alimentazione benzina è un'auto aziendale che ha avuto un solo proprietario che l'ha trattata divinamente infatti la carrozzeria è immacolata e questa crossland come tutti i nostri veicoli è garantita e certificata perché ha superato il test dai 100 punti di controllo il colore è un classico grigio chiaro metallizzato sono presenti i sensori di parcheggio perimetrali i cerchi sono in lega da 16 pollice sono in ottime condizioni e se mi avvicino e prendo la misurazione vi posso mostrare che anche il battistrada è perfetto grande attenzione al design con queste cromature sul laterale vetri posteriori elunotto oscurati anche i consumi rendono questa crossland perfetta per gli spostamenti in città infatti in media consuma solo 5,2 litri per 100 chilometri diamo uno sguardo al bagagliaio da 410 litri di questa crossland x lo spazio a disposizione per i passeggeri posteriori non è per niente male inoltre il tunnel centrale è praticamente assente questo permetterà anche al passeggero centrale di viaggiare comodamente e sono presenti gli attacchi isofix che rendono questo veicolo family friendly piuttosto ricercati questi sedili in tessuto con trama particolare e rifiniture in pelle certificati agr la plancia in similpelle soft touch realizzata con materiali di pregio anche il volante è in similpelle ed è dotato di comando vocale comando per le chiamate e cruise control con limitatori di velocità ora accendiamo il quadro e notiamo che quest'auto ha percorso solo 28.200 chilometri occupiamoci ora del sistema di infotainment abbiamo questo schermo touch con moltissime funzioni dal quale possiamo accedere all'audio con radio e multimedia alla galleria alla connessione bluetooth per il nostro smartphone alla proiezione del nostro smartphone le impostazioni di sistema e il clima che può essere controllato dal computer di bordo ed è automatico e bizona infine il cambio è manuale e con questo amici abbiamo finito ecco il reminder vai sul sito rattiauto.com blocca quest'auto con soli 100 euro senza impegno ricevi l'accomodamento a casa tua con igienizzazione e garanzia europea seguici su tutti i nostri social e attiva la campanella del nostro canale youtube al prossimo video alla prossima auto